Ben ritrovati in una nuova puntata di Non sono favole di Barbara Banco. Io sono Marco Bignozzi, insieme a me Barbara Banco. Bentrovata Barbara. Bentrovato Marco. Un saluto a tutti gli ascoltatori. La favola di questa sera inizia così. C'era una volta, ma in realtà è il proseguo di quella dell'altra volta. Esatto Marco. Ed eravamo rimasti con due punti in sospeso che sarebbe importante riprendere. Uno è perché non veniamo mai a conoscenza di questa frode? E il secondo punto è perché non possiamo più utilizzare il bond attribuito al momento della frode? Allora, intanto parlavamo di asset. Ufficialmente chiamato bond dagli amici, ma un asset è una garanzia. Questo noi siamo per i mercati internazionali. Perché non ne veniamo a conoscenza? Perché non saremo più schiavi? Perché? Perché penseremo più al donare il nostro tempo, la nostra energia, il nostro valore piuttosto che rimanere dentro quella ruota del criceto che invece arricchisce i mercati internazionali. Grandi titoli come BlackRock, Vanguard, eccetera, eccetera. Perché non ne veniamo a conoscenza? Perché in realtà, all'atto di nascita, come abbiamo già detto, il nome legale viene sostituito all'uomo. Viene sostituito a omo e quindi di conseguenza questo nome legale ci accompagna tutta la vita. Noi crediamo di essere cognome e nome, ma in realtà cognome e nome è l'asset, è il trust, è l'atto della schiavitù. A oggi quanto valgono i nostri asset? Ah, esultate, siamo tutti ricchissimi perché i nostri asset oggi vanno calcolati non solo sul certificato di nascita e sul codice fiscale, la testera sanitaria, che è anche in quello un asset, ma vengono calcolati su la carta d'identità, il passaporto, il conto corrente bancario, il contratto del telefono, il contratto della luce. Tutto questo viene poi reinvestito sui mercati internazionali più e più volte, fino a nove volte. Si chiama cartolarizzazione e è il metodo con cui le banche, i grandi potenti del mondo si arricchiscono, mentre noi, che siamo quelli che produciamo, che emettiamo continuamente valore, rimaniamo in uno stato di povertà costante. Ma questa povertà costante è indotta quindi? Sì Marco, è indotta. Ora vorrei riprendere la cartolarizzazione e spiegarla un po' meglio. Perché? Perché in realtà la cartolarizzazione, se andate a cercare, è anche una pratica bancaria legale. Peccato che, come dicevamo, le due domande iniziali, non c'è stato mai detto che noi abbiamo questo valore, anzi questa valuta, questa garanzia. Non c'è stato mai detto e quindi noi continuiamo, come dicevo prima, a lavorare. Ora verrebbe anche spontaneo pensare, ma se io sapessi questo non lavorerei più e allora il mondo si fermerebbe. No, non stiamo parlando di non lavorare più, stiamo parlando di emissione di valore. E la nostra emissione di valore è il dare costantemente il nostro talento. Qui entriamo in un argomento che porta a una novità nel mondo, dove non si basa più niente sul soldo, ma sul nostro valore. Quindi il mondo mondiale, cioè il World Bank, lavora proprio su questo principio, sul fatto che noi emettiamo costantemente valore e che viene trasformato nei loro database, nelle loro sedi, in valuta. Ma la valuta per noi non è il soldo. Il soldo ha importanza quando noi lo teniamo in mano, ha importanza perché noi crediamo, e sicuramente ce l'hanno fatto credere perché è la realtà che ci circonda, che dobbiamo usarlo per comprare le cose. Ma se ci domandassimo, chi le fa quelle cose? È il denaro che fa le cose o è l'uomo che fa le cose? Ecco, questa è una domanda che andrebbe assolutamente fatta dentro di noi per portare a una nuova consapevolezza di come vivere la vita. Quindi nel momento stesso in cui l'uomo si autodetermina, dunque torna a essere uomo vivo, questo gioco si interrompe, finisce. Questo gioco si interrompe e finisce già dal 2012 con la denuncia e la sentenza di OPPT 1776. Bene, Barbara, abbiamo aggiunto un'altra pillola di grande saggezza a questa conoscenza che spero che possa divampare senza freni. Ci diamo appuntamento alla prossima puntata, a risentirci presto da Marco Bignozzi e Barbara Banco. Un saluto, grazie Marco. Per approfondire questi argomenti e entrare nel dettaglio e scoprire tutte le realtà giuridiche, potrete visitare il sito noieiosono.com